Le due maggiori cariche dello Stato chiamate a testimoniare. I pubblici ministeri di Palermo hanno chiesto al giudice che il capo dello Stato napolitano e il presidente del Senato, Grasso, depongano in aula a Palermo, dove dal 27 maggio si aprirà il processo sulla trattativa Stato-mafia. Nella lunga lista di testimoni 179 ci sono anche ex ministri come Martelli, Conso e Scotti, l'ex presidente della Repubblica Ciampi, l'ex premier Amato, politici come De Mita e Forlani. Un pezzo di Stato di ieri, accanto ad una trentina di pentiti di Cosa Nostra. Napolitano dovrebbe testimoniare sulla corrispondenza epistolare con il suo allora consigliere giuridico Loris D'Ambrosio, all'indomani delle polemiche sulle intercettazioni con l'ex ministro Nicola Mancino, imputato a Palermo per falsa testimonianza. Le quattro conversazioni tra Napolitano e Mancino sono state distrutte. Come deciso dalla Corte Costituzionale, che ha dato torto alla procura di Palermo nel clamoroso conflitto con il Quirinale. Al telefono con D'Ambrosio, Mancino cercava una sponda istituzionale per evitare un confronto con l'ex guardasigili Martelli. Voleva anche che l'allora procuratore antimafia Grasso intervenisse per verificare il coordinamento delle indagini tra le procure di Palermo, Caltanissetta e Firenze. Intercettazioni che finirono sui giornali. Qualche giorno dopo, il 28 giugno dello scorso anno, D'Ambrosio scrisse a Napolitano. Sono stato considerato solo un ingenuo e utile scriba di cose utili a fungere da scudo per indicibili accorti. È su quegli accordi che ora i PM vogliono ascoltare Napolitano che il giorno dopo, risposa a D'Ambrosio, colpiscono lei per colpire me. Appena un mese dopo, D'Ambrosio morì di infarto. Adesso sarà il giudice a decidere se Napolitano e Grasso dovranno testimoniare oppure no.